Comincia il cammino. Foresta Montes, obiettivo dalla caserma, Vivaio, Fontanabona, Montefumai e poi l'obiettivo Monte Nuovo San Giovanni. Si va, partenza. Mi hanno già seminato. Le panche qui si sta bene. Ah, me lo ricordo un po'. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. e te le portano via però bellissima ma arrivano i cagliaritani allora scrivici il biglietto sono prenotate da noi prenotate da noi alberto le prenotate tu ciao marze fatevi trovare lì stasera impanate fritte o con aglio e prezzemola alla griglia al nonno pietro piacciono